Presso il centro polifunzionale Michele Abbate, l'assessore Giuseppe Lamenza, da poco delegato dal sindaco di Caltanissette Roberto Gambino anche alla partecipazione, ha convocato una riunione con i portavoce delle consulte comunali. L'incontro, richiesto dalla Mensa, servirà a far conoscere all'assessore i referenti delle diverse consulte, il lavoro svolto fino ad ora e la programmazione delle attività future. Le consulte comunali sono degli organismi che hanno una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'amministrazione cittadina. Attraverso la loro esituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle associazioni locali e dei singoli cittadini all'amministrazione locale. Ho voluto questo incontro semplicemente perché, avendo ricevuto la delega da poco, insomma mi piace conoscere di persone, intanto i referenti a sentire parlare loro delle consulte. cercare di capire qual è l'aria e quali sono i tempi per iniziare con delle attività. Le consulte hanno innanzitutto un ruolo propositivo, quindi all'interno elaborano proposte e le pongono all'amministrazione. Questo è il ruolo centrale. Riterrei che oggi siano la massima espressione di democraticità.